Si chiama Prossimità e Sicurezza e prenderà il via a mercoledì prossimo, 6 marzo. Si tratta di un progetto messo in atto dal Servizio Polizia Municipale di Gubbio e già inserito tra gli obiettivi previsti dell'amministrazione comunale. L'operazione prevede una serie di azioni mirate per realizzare un modello di gestione con divise partecipata, prevedendo interventi utili a migliorare la qualità della vita. Non ultimo, il fattore sicurezza percepita, che diventa elemento fondamentale soprattutto nelle aree periferiche del territorio gubino, dove le sortite di malviventi, soprattutto con furti in appartamento, non hanno subito sosta. Da qui la necessità di una presenza più visibile e di una maggiore integrazione fra utenza, servizi ed operatori. La Polizia Municipale sarà infatti presente con un proprio ufficio mobile, con un calendario di turnazioni nelle frazioni del territorio, per raccogliere eventuali segnalazioni, proposte, reclami e richieste dirette sia alla Polizia Municipale che ad altri uffici comunali ai quali verranno inoltrate le esigenze. La finalità è quella di monitorare e verificare i bisogni dei cittadini, soprattutto quelli delle località più lontane, visto che il territorio comunale è vastissimo e non sempre agevole per tutti, inoltrare richieste via posta elettronica all'ufficio relazioni con il pubblico o raggiungere di persona la sede degli uffici comunali. La prima giornata del progetto prossimità e sicurezza, come detto, sarà mercoledì prossimo, 6 marzo, e vedrà la presenza dell'ufficio mobile della Polizia Municipale nella frazione di Torre Calzolari, nel piazzale antistante La Proloco, dalle ore 15 alle ore 19. Il successivo venerdì 8 marzo, sempre dalle 15 alle ore 19, l'ufficio mobile sarà invece presente a Camporeggiano, nel piazzale adiacente La Bazzia. Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario completo delle frazioni raggiunte dal progetto. Grazie. 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 Grazie.